Juventus Milan è passione, è sudore, è gioia, è lacrime, Juve Milan è uomo, donna, bambini, è tutto ed è per tutti. Bonansea verso Aluco, stava per uscire Corenciova, Aluco, Corenciova, strepitosa mano aperta, chiude sul suo angolo. Bonansea tiene palla, aspetta il movimento di Aluco che arriva adesso, Aluco non è in fuorigioco, Aluco in aria di rigore la piazza, nuovamente Corenciova. Oggi è un fenomeno, Rolata Isa che già ha fatto male all'andata, cerca nuovamente, pallone dentro, Giacinti e ancora Bacic, poi Bergamaschi, calcio d'angolo. Alborghetti, cambia gioco rischiando qualcosa, infatti Bonansea, Girelli ancora verso Bonansea, deve uscire Corenciova, Bonansea, Barbara Bonansea, la Juventus è in vantaggio, 54 minuti di gioco. Barbara Bonansea, Girelli il tocco per Cernoia, che mastica la conclusione, Cernoia però lotta per tornare su questo pallone in qualche modo, Bonansea, incrocio dei pali. Bonansea, uno contro uno con Fusetti, Bonansea vuole rientrare, Bonansea potrebbe calciare, Bonansea, Barbara Bonansea, sono 12 in stagione, 2-0 per la Juventus, ancora lei, sempre lei, Barbara Bonansea. Grazie a tutti.